Siamo alla classe prima C della scuola secondaria di Albese. Il brano musicale che stiamo per eseguire si intitola Happy Days. È tratto dalla colonna sorora di una serie televisiva americana molto seguita negli anni 70. Eseguiremo il ritornello con i flauti e le percussioni. Ci è piaciuta molto l'iniziativa Note Blu! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!